Oggi è giovedì, 21 settembre, ci troviamo sempre alla della vittoria di Castelfrentano, via nazionale, allenamento da questo lato degli allievi di mister Gabriele di Felice. Sto facendo la palla a mano, ecco Michele adesso prende la palla, si è sfuggito, sta pronto. Continua la preparazione graduale di mister Gabriele, che man mano aumenta i ritmi di allenamento, molto diversificato. Gli hai pestato un piede? E da quest'altro lato c'è il gruppo di mister Giovanni di Giulio, i giovanissimi, il gruppo di giovanissimi, anche loro fra poco inizieranno il campionato della loro categoria. Per loro sarà una novità, in quanto l'anno scorso nel loro campionato di esordienti non c'era l'arbitro, invece quest'anno troveranno l'arbitro ufficiale, pertanto si devono confrontare con una nuova realtà. Ecco, vediamo, c'è Riccardo, Enrico, Gabriele, Alex, Di Donato, Gabriele, Luca, il nuovo Larnè, la conoscenza, il nuovo Larnè, la conoscenza, da quest'altro lato si vede l'allievo Karan, Nicola, Guido, Teidi, Lele, la in fondo Bartolo, poi rientro di Cristian dopo un importunio, è stato fermo una decina di giorni, non si è potuto allenare, c'è Mitch, Marcello, Alessandro, Amedeo, abbiamo Andrea, Lenzetto, Costantini, Michele, Alessio, e qua abbiamo il nostro Matteo, il portiere, ecco è coltata la partitella, prende la palla Karan.